Facciamo la correzione della versione su Clelia, esempio di coraggio, che ha dato un po' di problemi. Allora, vi ho diviso le frasi così le vedete in maniera più chiara. Porsenna, qui avete la posizione, re degli etruschi, orum, è la desinenza genitivo plurale, descenderat, vedete che c'è la desinenza del più che perfetto, quindi va tradotto con un trapassato, quindi Porsenna, re degli etruschi, era disceso nel Lazio, moto a luogo, lo vediamo anche perché c'è l'accusativo in M, e cum apub romam fuit, questo cum non ha un ablativo dopo, e quindi sarà un cum temporale, una subordinata temporale, e quando fu nei pressi di Roma, Capitolium, attenzione, finisce in M, quindi è un accusativo, quindi è un complemento oggetto, quindi non potete tradurlo qui come alcuni di voi hanno fatto, va spostato dopo il verbo, altrimenti sembra il soggetto. Obsidebat, imperfetto, vedete che c'è il suffisso dell'imperfetto, occupava il Campidoglio, rocca della città, ok? Urbs, ricordatevi che non è una città qualsiasi, ma è proprio la città di Roma, ok? Tunc romani induzias a regge petiverunt, et obsides pignus pacis et pacifiche voluntatis ostibus de derunt. Allora, qui avete avuto dei problemi, ma sapete perché? Perché secondo me il vostro fantastico amico Griffa, se vi avesse messo un'altra virgola qua, non avrebbe fatto un soldo di danno, perché in effetti questa è una posizione, ok? Allora, i romani petiverunt è un perfetto, richiesero, domandarono. Allora, alcuni sono andati un po' nel panico con questo a regge, sapete che awab più l'ablativo, questo è rex regis, generalmente costruisce il complemento di agente. Però voi dovete sempre guardare sul dizionario il verbo come si costruisce. Se aveste guardato bene, sul dizionario c'è scritto che il verbo peto, che vuol dire un sacco di cose, costruito con a e l'ablativo, vuol dire chiedere a qualcuno, ok? Quindi chiesero al re induzias, indulgenza, una tregua e obsides, questo è un complemento oggetto, quindi dobbiamo prendere il verbo e diedero degli ostaggi a garanzia, pegno, di che cosa? Di pace e di volontà pacifica ai nemici, i bus dativo plurale. Chiaramente voi non avevate questa virgola, quindi potevate anche intenderlo segno, garanzia di pace, di pacifica volontà nei confronti dei nemici, ok? Interopsides clelia cum non nullis virginibus fuit que incastris ostium detinebantur. Fra gli ostaggi fuit ci fu clelia, ok? Questo è un perfetto, però in italiano qui possiamo fare una deroga e tradurlo con un imperfetto che ci sta meglio. Quindi tra gli ostaggi c'era clelia cum insieme ad alcune vergini, ad alcune fanciulle, que le quali plurale, perché poi il verbo è al plurale, passivo, imperfetto, erano tenute nell'accampamento dei nemici, ok? Clelia, autem nocturno tempore, dum vigilia dormiunt, militum custodiam fefellit, ex castris fugit, et tiberin tranavit cum suis comitibus, quassin urbem reduxit, et liberas parentibus reddit. Clelia, allora, di notte, nel tempo notturno, ablativo, questo è un complemento di tempo determinato, mentre le sentinelle dormono, ho anche qui, è un presente, quindi giustamente me l'avete tradotto come un presente, però siccome la frase è tutta al passato, potete anche renderlo come un imperfetto, quindi Clelia, di notte, mentre le sentinelle dormivano, ingannò, diciamo, aggirò la sorveglianza militum genitivo plurale della terza dei soldati, fuggì dall'accampamento, moto dal luogo e tranavit attraversò a nuoto Tiberim il Tevere, non Tiberio, come qualcuno di voi ha scritto, il fiume Tevere, insieme alle sue compagne. Certo, questo può essere anche maschile, per carità, però prima diceva che Clelia era con delle vergini, molti di voi mi hanno tradotto con i suoi compagni, cercate sempre di contestualizzare, di capire cosa sta dicendo, cioè Clelia era un ostaggio, insieme a altre ragazze, e di notte lei cosa fa? Scappa con le sue compagne, che ricondusse, riportò in Urbem, quindi a Roma, nella città, e riportò libere, complemento predicativo dell'oggetto, ai propri parenti. Tung porsenna ira exarsit ad senatores legatos misit, et cleliam agli asque virgines que fuggerant repetivit. Allora, Tung porsenna, questa espressione l'abbiamo già trovata tra l'altro nella versione su Achille, quindi se l'avesse tradotta voi non avreste avuto problemi a ritradurla in questo contesto, quindi dice allora porsenna si infiammò di rabbia, si accese di rabbia, di ira, misit mandò ai senatori legatos degli ambasciatori, dei messaggeri, e repetivit, reclamò, richiese indietro, vedete che c'è sempre peto, che vuol dire chiedere, l'avete incontrato anche qua, ripeto, vorrà dire richiedere. Clelia, richiese indietro Clelia e le altre ragazze que che erano fuggite, più che perfetto. Romani fidem servaverunt et virgines fugitivas ad reggem reduxerunt, reduxerunt, que nullomodo abbostibus violate sunt. I romani rispettarono il patto, la parola data, guardate che fides è una parola importantissima nella cultura romana, era talmente importante che i romani avevano anche immaginato una divinità che proteggesse proprio questo valore romano, la fides che cos'era? Era non solo la fiducia ma proprio il patto che si stabiliva tra due persone che potevano essere familiari, amici o persone che collaboravano in politica, ed era veramente il fondamento della società romana, la parola data che andava rispettata. Quindi cosa fanno i romani? Mantengono il patto, visto che Clelia era l'ostaggio che i romani avevano dato a questo re etrusco Porsenna per interrompere la guerra, quando Clelia torna a casa i romani mantengono il patto e riportano Clelia e le altre a Porsenna. Quindi i romani preservarono il patto e riportarono ad Regem, al re, le vergini, le ragazze fuggitive, che in nessun modo, nullo modo, dai nemici, complemento di agente, furono violate. Furono. È vero che sembra simile all'italiano, sono violate, ma ricordatevi che questo è un passivo del perfetto, ok? È una sorta di falso amico, furono violate. Rex contra, magnopere Clelie fortitudinem laudavit et puellam romanis liberam reddit. Il re, al contrario, lodò grandemente la forza di Clelia e riportò la ragazza libera, complemento predicativo dell'oggetto, ai romani, is, dativo plurale. Postia ob tantam fortitudinem romani statuam virgini Clelie dedicaverunt et in foro aput edem dioscurorum posuerunt. In seguito, ob, più accusativo come obopropter, complemento di causa. Quindi in seguito a causa di quella forza tanto grande, i romani dedicarono alla vergine Clelia una statua e nel foro la posero presso il tempio dei dio scuri, genitivo plurale, ok?